long play di dj boy per siga mega drive versione europea questo gioco è un picchiaduro scorrimento con la particolarità di essere sui pattini è una produzione sicuramente interessante anche divertente però secondo me dura troppo poco il gioco è breve e anche la rigiocabilità a mio avviso non è un granché buona visione e come sempre un bel mi piace e una bella iscrizione al canale fanno sempre piacere no no Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.